Testamento di Silvio Berlusconi, un'ultima volontà toccante. Nel corso di una cerimonia emozionante tenutasi ieri presso il notaio Arrigo Roveda, è stato letto il testamento di Silvio Berlusconi, svelando così le sue ultime volontà sulla spartizione dell'enorme eredità. La mattina del 6 luglio, in un momento di grande importanza per la famiglia Berlusconi, il contenuto del testamento è stato visionato in esclusiva da Lanza, che ci ha fornito i dettagli sulla destinazione dei beni tra i cinque figli e la compagna Marta Fascina. Secondo quanto riportato, i figli Marina e Pier Silvio, nati dal primo matrimonio con Carla e Elvira Dall'Oglio, riceveranno la maggioranza delle azioni di Fininvest, l'azienda di famiglia. Grazie a questa divisione, i due figli acquisiranno una quota del 53% del gruppo, con quote paritarie. Nel comunicato, firmato insieme ai fratelli Barbara, Eleonora e Luigi, è stato inoltre specificato che nessun individuo deterrà un controllo esclusivo diretto sulla Fenendas Spa, che precedentemente era esercitato dal padre stesso. Da Veronica Lario, l'ex moglie di Berlusconi, non sono stati specificati i dettagli delle quote ereditate. Tuttavia, i figli e Veronica Lario hanno comunicato che nessuno dei soggetti avrà un controllo solitario sulla Fininvest Spa. Il testamento contiene anche dettagli sulle donazioni di Silvio Berlusconi ad alcune persone di fiducia. Paolo Berlusconi riceverà 100 milioni di euro, Marta Fascina riceverà anch'essa 100 milioni di euro e Marcello Dell'Utri riceverà 30 milioni di euro. È stata Marta Fascina, la compagna di Berlusconi, a consegnare la lettera contenente l'Ultimo Testamento al notaio Roveda, alla presenza di due avvocati testimoni, Luca Fossati e Carlo Rimini. In conclusione della lettera, Berlusconi si rivolge ai suoi figli con amore e gratitudine, affermando che se non dovesse tornare, chiede loro di prendere atto delle sue ultime volontà riguardo alla distribuzione dei suoi beni. Questo testamento di Silvio Berlusconi rappresenta un momento di grande emozione per la sua famiglia e per il pubblico, rivelando le sue ultime volontà e dimostrando l'affetto che aveva per coloro che gli erano più vicini. Grazie di averci seguito in questo viaggio emozionante attraverso il testamento di Silvio Berlusconi. Se desideri rimanere aggiornato su altri avvenimenti e storie interessanti, non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube per ulteriori contenuti intriganti e coinvolgenti. Ci vediamo presto con nuovi video avvincenti. Resta connesso e continua ad esplorare il mondo con noi.